Un'altra lavorazione particolare è quella di Lio, che prevede del bianco posizionato sul cristallo. Da questa sottile striscia nascerà poi una lampada che si sviluppa in lunghezza. La fasciatura è questo tipo di lavorazione in italiano, poi tutti i termini sono ovviamente dialettali, però in questo caso il maestro rettifica a mano questa striscia che poi rimette nel forno per scaldarla e per fare un secondo passaggio per poi passare la canna a chi soffierà effettivamente questa lampada. Grazie a tutti. Ecco, la lampada Lio è uscita dallo stampo in questo momento nella fase di raffreddamento. Il maestro controlla che sia uscita a regola d'arte, potremmo dire, e vedete come la striscia di bianco sul cristallo si sia dilatata in lunghezza. Ancora qualche istante deve sempre ruotare la canna ovviamente e fra poco andrà a riposare nel forno di ricottura. Grazie a tutti.